L'assessore all'agricoltura Rosa Mastro-Simone ha incontrato il presidente, il direttore e il comitato direttivo dell'Associazione Provinciale Allevatori di Potenza. In una visita alla struttura, dove ha potuto apprezzare i laboratori di analisi, l'assessore ha sottolineato l'impegno della regione a sostenere le associazioni che svolgono un ruolo importante per lo sviluppo della zootecnia regionale e per la valorizzazione delle produzioni lucane di origine animale. E' irrinunciabile, ha detto l'assessore Mastro-Simone, pensare ad un grande progetto di rilancio del sistema zootecnico lucano per restituire fiducia e vitalità alle imprese allevatoriali.